In collaborazione con Glamvision e Ottima Trento. Riva le Gardas, tremendo schianto, l'auto si è trasformata in un groviglio di lamiere. Lorenzo Armellini è morto a 50 anni. Dal comune di Trento parte una diffida alla provincia per l'accoglienza di minori e madri. Pedrotti, la competenza è di Piazza Dante, ma i costi sono tutti a carico nostro. Adesso basta. Se non fosse stata uccisa, Al Bacchiara avrebbe compiuto 29 anni. Il padre, Massimo Baroni, aiutare una donna vittima di violenza è come farlo con nostra figlia. C'è il divieto, la sbarra abbassata, il giro non passerà per pericolo di valanghe, ma decine di ciclisti se ne fregano e affrontano lo Stelvio. Pista da Bob di Cortina, fallimento annunciato, inchiesta di report, sulla sostenibilità dell'Olimpia di Milano-Cortina 2026. I difetti visivi sono tanti, miopia, stigmatismo, ipermetropia. Il pregio è correggerli con occhiali davvero glam. Con Glam Vision puoi prenotare l'analisi gratuita della vista e poi sfoggiare i tuoi nuovi occhiali che possiamo creare per te. Scopri di più su Glam Vision.it